Io credo che la conoscenza sia l'anticamera della possibilità poi di lottare certi fenomeni. In materia di corruzione c'è una scarsa consapevolezza per esempio dei danni che fa la corruzione al sistema paese. Questa scarsa consapevolezza deriva anche dalla scarsa conoscenza di quello che è il fenomeno corruzione a 360 gradi. Tutti continuano a pensare, ma in fondo se qualcuno vince un appalto con la corruzione il danno dove sta? In quale ambito si individua? E quindi è fondamentale provare a far capire il danno perché la battaglia deve essere soprattutto sul piano culturale e ancora di più provarlo a fare in un contesto che è quello di chi studia il diritto e può studiarlo in una prospettiva e di una logica diversa.